quando per la prima volta una donna venne a chiedermi un consiglio perché stava per abortire era un giovanissimo prete lei era non sposata era nella paura era emozionata e anche io lo ero perché era la prima volta che mi trovavo direttamente coinvolto in una cosa così importante chiesi consiglio a un amico prete molto saggio lui mi disse due cose che restarono per me indimenticabili mi disse guarda ci saranno due momenti all'inizio tu sarai l'unico che le dirà che vale la pena tenere il bambino il secondo momento è poi se lei dovesse decidere di abortire sarai l'unico a dirle stai serena il signore ti perdona vai avanti ecco questi due momenti sono decisivi sei l'unico sarai l'unico a dire questo quante volte poi mi è capitato tutti ti dicono è già deciso abortisci non c'è niente da fare e invece la donna sente che c'è qualcosa che non va sente che è un bambino mi disse questo prete prova a dirle ma cosa direbbero i tuoi parenti ti aiuterebbero poi dopo i primi momenti di di fastidio di rabbia poi direbbero ma certo se tu decidi siamo tutti contenti aiuteremo non sarà mai sola avrai soldi e lui soprattutto una delle cose più terribili che la donna dopo la cosiddetta liberazione sessuale oggi è ancora più sola si dà per scontato che lui non c'entra niente è incredibile questo questo prete mi disse deve parlare con lui almeno dividano la metà delle responsabilità se dovessero abortire che almeno la metà delle responsabilità se la senta lui anche cioè questo aiuterebbe lei invece no la donna è sola lasciata totalmente sola e poi il secondo momento mi disse lui guarda dopo che tu avrai fatto intuire che è bello che è possibile che tante donne ce l'hanno fatto che tu sei matura esattamente perché tieni un bambino quel bambino dirà mia mamma era matura perché mi ha tenuto anche se ancora non aveva chissà quale stipendio ancora non aveva neanche uno stipendio non lavorava se dovesse abortire verrà il momento in cui dovrai darle serenità farle credere che c'è il perdono che il perdono vince la morte vince il peccato e questo l'ho capito poi meglio ancora dopo è una storia che mi dettero le due persone la possibilità di raccontarlo glielo chiesi proprio perché era così utile per gli altri no successe che abortirono due giovani lei si confessò subito e invece lui veniva da me mi diceva andrea ma io non ha senso che mi confesso che senso ha tanto la scelta oramai è fatta dio mi perdona ma tanto non si può cambiare niente e gli amici vedevano che era diventato più triste non capivano perché ma era più cinico era più freddo non aveva la gioia di prima e poi dopo diversi anni si immaginò il suo bambino che gli sorrideva dal cielo ne parlamo insieme e capimmo insieme che era quel bambino anche che lo perdonava dio era capace di dare la vita eterna a quel bambino e quel bambino era felice come se avesse vissuto in terra gli diceva papà io ti voglio bene stai tranquillo e lui mi disse questa frase meravigliosa quando avrò un figlio non sarà una replica di quello sarà un altro figlio ne avrò uno in cielo e uno in terra ecco la meraviglia del perdono dio può perdonare perché è capace di dare la vita ecco perché io non capisco né chi continua a parlare in maniera ossessiva di omicidio né chi dice che non è niente che un grumo di cellule se uno prova a stare vicino alle persone non sono veri nell'una nell'altra cosa o meglio è l'atteggiamento che uno deve capire deve entrare nella vita delle persone una donna sa benissimo che quello è un figlio non dice non pensa aspetto un grumo di cellule dice aspetto un bambino è un bambino potrebbe nascere e sente il dramma per tutta la vita sarà assegnato dal suo dramma ecco perché la chiesa non dà sensi di colpa perché questo tu ce l'hai da sempre ce l'hai dentro di te e anche l'uomo lo sa e bisogna far sì che l'uomo sia responsabile di questa cosa la legge 194 non è mai stata attuata fino in fondo perché perché il suo primo articolo dice lo stato tutela fin dal suo concepimento la maternità quella legge non parla di un diritto ad abortire dice la non punibilità che senso ha punire una donna che abortisce ma fa di tutto almeno nell'impianto del legge dovrebbe esserci tutta una società che aiuta la donna e l'uomo a capire che sarebbe possibile tenerlo e che lo aiuterebbe che che lo stato la società i parenti tutti aiuterebbero un tempo c'era la ruota presso i monasteri si metteva un bambino una donna che non poteva tenerlo e quel bambino viveva si aiutavano due persone insieme quel bambino e quella donna che non se la sentiva oggi potremmo fare molto molto di più e invece la legge non fa niente non c'è nessun aiuto non c'è nessuna possibilità non c'è nessuno che in un consultorio dica ma senti ma ma fallo nascere poi lo diamo in adozione a tante di quelle famiglie che aspettano da anni un bambino sarebbe una gioia per quel bambino per quella donna per quell'uomo con la ru 486 addirittura tolta addirittura dal controllo medico si va ancora verso di più questa solitudine totale della donna la donna viene lasciata solo altro che diritti altro che grandezza della donna gli si scarica addosso tutta la colpa mentre tutti potrebbero dire ma se tu vuoi che nasca noi ti aiutiamo non possiamo importi niente questo prete amico mi disse fin da subito guai se tu imponi qualcosa devi fare appello alla sua libertà deve capire che cosa è devi aiutarla ad amare a capire poi dovrà decidere lei lei deve decidere lui deve decidere non si può mai varcare questa soglia perché poi dopo c'è la vita che ne consegue ma dire c'è la possibilità che nasca c'è un figlio recente c'è un c'è un film recente mi ha colpito molto mediterraneo di crialesi dove c'è una donna immigrata che è stata violentata nei lager libici è incinta il fratello di quel bambino che potrebbe nascere dice alla madre togliamolo facciamolo fuori se no papà poi si arrabbia quando arriveremo a torino e lei dice donna migrante no mio marito capirà è incredibile come siano i migranti a ricordarci che è possibile tenere un bambino anzi che per la maggior parte delle persone è veramente la scelta più vera al di là della morale al di là di quello che pensa la chiesa si può fare anzi è bello farlo anzi tutti ti aiuterebbero ma il nostro occidente la nostra cultura occidentale moderna è chiusa non capisce ma in questa maniera nega il dolore vero delle persone nega la vita ma nega anche il dramma delle persone che sono dinanzi alla scelta vuole privatizzare tutto che ognuno faccia quello che vuole se la sbrighi lui non è questa l'idea di società dove ci si aiuta dove si fa di tutto perché un bambino nasca perché un uomo una donna siano siano loro stessi non si tratta di chiedere il matrimonio riparatore di un tempo che è una cosa sbagliata perché tanto non funzionava ma che bello se un uomo una donna possono essere fieri di aver fatto nascere un bambino di averlo tenuto di essere padre e madre di averlo dato in adozione in affidamento che bello questo è la dignità non un diritto al limite una non punibilità non al limite una non punibilità reale tutti capiscono il dramma di una persona che aspetta un bambino in maniera non preparata però tutti sanno anche che in fondo ogni vita nasce come una sorpresa come una cosa non attesa tutti noi siamo nati e non si permanente di noi non era stato stabilito il giorno della nostra nascita del nostro arrivo del nostro concepimento bisogna tornare a partire bisogna tornare a parlare col cuore con la vita di queste cose serie non con diritto omicidio queste parole che offendono la vita senza aiutare a capire a penetrare nella libertà nella possibilità della scelta e nella vita che si fa strada da sé se tu l'accompagni quella vita che se tu le dai qualche possibilità quella vita si fa strada perché tutti noi amiamo la vita e vogliamo che la vita nasca che la vita cresca che la vita esista